Per ottenere le migliori immagini dei pianeti e della Luna utilizziamo telescopi specializzati e camere che consentono di registrare video di grandi dimensioni e quindi elaborarli in un'unica immagine di elevata qualità. Vediamo come l'Eagle vi aiuta nell'astrofotografia ad alta risoluzione di Luna e pianeti. Queste camere di solito non sono raffreddate perché la cattura di Luna e pianeti non richiede tempi di esposizione lunghi e per le migliori prestazioni è necessario avere alta sensibilità e registrare molte immagini al secondo. Ecco perché le migliori camere planetarie utilizzano la connessione USB 3 e hai bisogno di molto spazio e potenza del computer per usarle. Ecco perché Eagle è il migliore sistema per fare astrofotografia anche di questo genere. Siamo sotto il cielo e visto che la Luna è alta, questa sera faremo astrofotografia ad alta soluzione di Luna e pianeti. Uno dei vantaggi di utilizzare Eagle per riprendere Luna e pianeti invece di un computer portatile normale è naturalmente il controller remoto. Non è possibile utilizzare infatti una camera planetaria con un lungo cavo USB ma con Eagle il cavo è molto corto e il file video viene salvato direttamente nel disco SSD interno ma tu vedi l'immagine in tempo reale da remoto e ovunque tu sia. E grazie allo speciale progetto Eagle non emette calore che potrebbe disturbare le vostre immagini in alta risoluzione e non aggiunge vibrazioni al vostro telescopio. Un altro vantaggio offerto dall'utilizzo di Eagle nell'astrofotografia ad alta risoluzione di Luna e pianeti è quella di poter collimare in maniera più semplice. Infatti potete osservare in tempo reale l'immagine della stella per la collimazione e agire facilmente sulle viti di collimazione dello strumento fino a ottenere una collimazione perfetta. Poiché Eagle utilizza Windows può utilizzare non solo la camera planetaria che preferisci ma anche il software per astrofotografia che preferisci. In questo caso ad esempio stiamo utilizzando SharpCup ma potete utilizzare qualsiasi software fornito con la camera o software di terze parti. È possibile regolare l'impostazione della camera e se si dispone di un focceggiatore motorizzato è anche possibile regolare perfettamente la messa a fuoco del telescopio senza introdurre vibrazione. Quando inizi la registrazione puoi anche registrare facilmente in video con molte immagini al secondo specialmente se hai un modello di Eagle con un processore più veloce. Essendo un geologo mi piace usare il mio Eagle spostandolo tra i vari telescopi che posso testare per l'immagine planetario in alta risoluzione in particolare della Luna dove posso registrare un sacco di video e di immagini e confrontarle con le carte geologiche della Luna. E grazie alle avanzate funzionalità di controllo remoto e alla possibilità di utilizzare le camere e il software di astrofotografia che preferite, Eagle è la migliore piattaforma anche per l'astrofotografia planetaria e lunare ad alta risoluzione e con qualsiasi telescopio. Grazie a tutti.